la missione di oggi scegli gli hobbys più stupidi oggi voglio davvero passare a quell'hobby ok vedo l'inizio salta salta lentamente quanto è facile no? sembra facile quando lo fa qualcun altro eh? passerò ora? no meglio ora no meglio ora hop 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 ops stai attento che cadi pazienza abrucci guarda quanto sembrava facile dal basso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti in acqua super salto qui super salto là Pimpam! Questo è facile, o no? Questo non vale che scivolo! Nota a me stesso, non saltare il laser! Pimpam! ah non c'è un solo laser ce ne sono due mi sono fatto male senza toccarmi uffa che salto non mi arrendero ok ora ci sono solo poche piattaforme rimaste e un raggio laser nooo questo stavo quasi per prenderlo questo è più difficile che litigare con un brokers che male tu 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 ciao 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 ispira respira capito te l'avevo detto che era facile ahahah che incubo quanti sales presto potrò sbloccare il mondo dei brokers lasciami ho bisogno del mio me ne servono solo 1500 tre sono tanti ma ho un palo mi ne 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 oh no oh no oh no 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 nooo ora ho un super bastone ti non cosa sizvi MOBI presto non ti non puoi ora sono la metà degli cells di cui ho bisogno ho, ai ai, oi, oi L'ummi, uno scrigno. Ogni volta sono più forte. Pum, questa volta è stato facile. Pum, questa volta è stato facile. E questa piattaforma dove mi porterà? Pum, questa volta è stato facile. Un salto qui, un salto lì. Una rampa dopo. Ha, 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 mega scrigno. Pum, questa volta è stato facile. Negli angoli ci sono molti cells. Musica Di due in due sono salito di livello. Missione superate. Iops, un altro paio di brokers. Fuori la città è infestata. Ora sì, missioni, hobbies più difficile superata.